allarme asili a pesero mani legate per aumentare i posti nei nidi dopo cinque giorni smobilita la protesta dei trattori nasce fondazione di imprenditori a sostegno degli indigenti polizia esercito a lezione dal campione mondiale di kickboxing a pecchio pronta la sua settimana da capitale della cultura buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale con l'informazione di rossini news telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di venerdì 9 febbraio apriamo occupandoci di servizi educativi preoccupazione e frustrazione per il comune di pesero davanti all'impossibilità di aumentare allo stato attuale i posti disponibili negli asili nidi per l'anno didattico che verrà dopo che nel 2023 appena trascorso le liste d'attesa hanno superato più di 200 famiglie confinate appunto in questo stato senza posti disponibili appunto in questi servizi educativi una situazione che non migliora anche per colpa di un paradosso determinato dai fondi stanziati dalla regione Marche vediamo perché in questo nostro primo servizio dopo un 2023 archiviato con 200 richieste di posti nei nidi di infanzia costretti a dirottarsi in lista d'attesa i servizi educativi del comune di pesero continuano ad avere le mani legate sull'utilizzo dei fondi necessari ad ampliare le risposte verso questa domanda crescente una frustrazione esternata oggi in municipio dall'assessora murgia dai rappresentanti delle famiglie dai consiglieri comunali mattioli vitali e nobili e dai consiglieri regionali vitri biancani che hanno vissuto in prima persona un aumento di fondi in regione annunciato lo scorso dicembre ma che nella realtà dei fatti si proietta su una politica di voucher che non consente di ampliare i posti nido quello che preoccupa moltissimo di quest'azione regionale non solo la superficialità e a volte anche la fretta con cui vengono fatte alcune e prese alcune decisioni ma l'impossibilità di utilizzare questi fondi questi 4 milioni che hanno annunciato tramite i fondi fse per rispondere ai reali bisogni delle famiglie le famiglie della nostra città del nostro territorio hanno bisogno di posti nido posti per i bambini e bambine 0 3 anni la regione risponde erogando dei voucher e consentendo ai comuni di prolungare gli orari di frequenza cosa importantissima noi non neghiamo questa possibilità e anche questa manovra come utile ma la libertà e anche l'indicazione nazionale da parte del dello stato sui fondi 0 6 è lasciare ai territori la libertà di utilizzo su questi fondi che noi andiamo a rivendicare nello specifico al comune di pesaro servirebbero 2 milioni di euro per rispondere ai 200 bambini in lista d'attesa per i nidi a oggi frequentanti le scuole della città presente in comune anche andrea baroni rappresentanza di confindustria che sta mettendo a terra politiche di welfare sociali lodevoli ma che non possono coprire quelle emergenze che solo la spendibilità dei fondi regionali potrebbe attenuare a fine dicembre quando abbiamo approvato il bilancio di previsione ci siamo accorti che non c'era un euro 0 euro per i servizi educativi 0 6 anni e quindi in consiglio regionale io sono intervenuta protestando non potevo credere a ciò che vedevo nero su bianco erano rimasti stupiti devo dire anche il presidente acquaroli e altri suoi colleghi di maggioranza poche ore dopo è arrivata una risposta mi è stato detto che i fondi li avrebbero trovati dai fondi sociali europei e che addirittura li avrebbero aumentati passando a livello regionale da un milione e mezzo a 4 milioni e quindi abbiamo ringraziato andando poi a vedere la delibera di giunta abbiamo visto che queste risorse venivano prese solo ed esclusivamente dal fondo sociale europeo che purtroppo è vincolato può essere usato solo per alcuni scopi e quindi è come se per usare una citazione si chiedesse del pane invece si desero al popolo delle brioche arrivano dei voucher possono essere usati solo come voucher o per ampliare l'orario pomeridiano ma non possono essere aumentati i posti dei nido quindi per assurdo aumenterà ancora la richiesta ma il comune non ha le risorse per aumentare i posti nei nidi perché questi 4 milioni a livello regionale per tutte le marche sono vincolati sono assolutamente vincolati quindi noi diciamo bene i voucher bene le risorse europee che sono lì e le dobbiamo solo prendere quindi bene siano state prese ma non toglieteci l'altro milione e mezzo di euro che è indispensabile anche per ampliare i posti mi auguro che la regione possa modificare questi fondi e investire di fondi propri come fanno tante regioni virtuose per le famiglie per le bambine per i bambini affinché i comuni non siano costretti a diminuire l'offerta di posti a rivisitare quella che è la propria idea di programmazione sul servizio e ancora di più dover dare delle risposte negative alle famiglie che continuano a rivendicare questa necessità allora a questo punto è vero che la percezione sembrerebbe appunto che la regione investa di più per questo anno scolastico 24 25 nella realtà investe molto meno perché anche i fondi che erano prima svincolati nell'utilizzo da parte dei comuni adesso diventano vincolati quindi oltre il danno anche la beffa di non poter essere davvero una possibile risposta alle famiglie dagli asili ad una scuola o meglio ormai ad una ex scuola primaria la mascarucci di Soria che lo scorso 24 gennaio è stata alienata dal comune di pesero con vendita all'asta per due milioni e mezzo di euro emergono nuovi dettagli sul futuro di questa struttura che è destinata ora ad uso residenziale l'acquisto della scuola da parte dell'amministratore di tecnoplast enzo cammillini assieme alle imprese di le tagliabracci prevede infatti la realizzazione di 37 appartamenti in 3.700 metri quadrati con i lavori che dovrebbero partire a fine 2024 dopo cinque giorni smobilita il presidio dei trattori a pesero che hanno manifestato pacificamente contro le normative europee reputate penalizzante per il sistema dell'agricoltura e che mettono anche a repentaglio la qualità del cibo sulle nostre tavole la delegazione degli agricoltori è stata accolta dal prefetto emmanuele saveria greco che ha raccolto le istanze dei manifestanti che ora pensano ad altre manifestazioni di protesta in vista delle prossime settimane parliamo dell'emergenza alluvione di maggio 2023 per la quale è stato stanziato un ulteriore fondo di 4 milioni e 700 mila euro alla provincia di pesero orbino grazie alla ultima ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione francesco paolo figliuolo una cifra che si aggiunge ai 10 milioni del 2023 mentre con l'adeguamento del crono programma viene trasferito al 2024 il contributo regionale assegnato con ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri pari a 13 milioni e 3 è destinato all'emergenza alluvionale del 2022 in totale l'amministrazione di via gramsci potrà dunque disporre di oltre 28 milioni per portare avanti interventi di ripristino davvero rilevanti ieri sera a villa lacerbara di fossombrone è stata presentata la fondazione homo bonus una nuova unione di imprenditori che si mettono in rete per il sostegno alle emergenze sociali del territorio provinciale amiche amici di rossini tv oggi siamo a fossombrone alla villa lacerbara dove fra pochi minuti verrà presentata la fondazione homo bonus una fondazione che ha un obiettivo un obiettivo dichiarato che è quello di ridurre addirittura eliminare gli svantaggi sociali un obiettivo ambizioso andremo ad ascoltare dalla voce degli ideatori di questa fondazione quali sono i temi che verranno portati avanti quali sono gli strumenti una cinquantina di imprenditori ci aspettiamo che entro quest'anno noi possiamo tranquillamente arrivare ampiamente supracento ma io penso anche supracento 50 e riunire tutte le realtà imprenditoriali non solo industriali ma anche commerciali e così via in modo da creare veramente qualcosa di importante per la nostra provincia ci sono persone che voi avete identificato strati sociali che avete individuato che hanno bisogno di aiuto di sostegno e l'obiettivo è quello di creare delle premesse per dare una sorta di riequilibrio è forse un obiettivo che in tanti hanno in testa ma voi vi siete messi sotto per realizzarlo si prima di tutto perché la questione principale che io volevo mettere davanti è la natura dell'imprenditore cioè noi alla fine di tutti non siamo conosciuti dalla gente la gente ci conosce solamente per il fatto di dire loro c'hanno i soldi ma in ogni caso questo ve lo giuro tutti gli imprenditori che ho visto come la canzone di Renato Zero dietro il portafogli c'è il cuore e quindi tutti gli imprenditori che io ho incontrato porteranno un grande aiuto e un sostegno a tutte le realtà che hanno bisogno di poter vivere meglio e saranno sia nel lato della scolarizzazione dei ragazzi in riferimento alle famiglie che non hanno le risorse per poter farli studiare sia anche per le persone anziane con una pensione che non arrivano alla fine del mese che devono decidere se mangiare oppure curarsi tutte queste cose qui al giorno d'oggi voglio dire non possono essere accettate purtroppo qualcuno se lo prende in carico noi imprenditori abbiamo il diritto e il dovere di farlo sono grandi imprenditori nel loro settore ma hanno mantenuto forte questo senso del sociale e questa forte umanità quindi io mi complimento veramente con loro per aver istituito questa fondazione e spero che possano dare risposte a tutti coloro che hanno necessità di avere un aiuto, un sostegno che possano quindi trovarlo nella loro attività questa iniziativa è un'iniziativa lodevole perché non solo l'impresa mira al benessere di un territorio di una comunità dando lavoro ovviamente poi anche attraverso i tributi, le tasse contribuiscono quindi anche al benessere di una comunità ma lo fanno anche mettendo a disposizione i loro utili per finalità sociali e soprattutto direi attraverso questa fondazione i loro utili vengono destinati anche a progetti a favore delle fasce più deboli, dei più poveri, gli indigenti e poi ecco loro in questa associazione, in questa fondazione è anche molto attenta nell'individuare quali soggetti possono essere destinatari, possono diventare loro interlocutori per poter raggiungere il bisogno dei poveri tra questi soggetti c'è anche la Caritas, la Caritas della Diocesi di Pesaro ma anche della Diocesi di Urbino e di Fano e quindi sono qui a dire anche un grazie agli imprenditori per questa loro generosità e attenzione In tema di arti marziali Pesaro ha in casa un campione del mondo parliamo di Jordan Valdinoci due volte campione di kickboxing a livello mondiale e per questo Polizia ed Esercito per quello che riguarda il 28esimo Regimento Pavia hanno deciso di approfittare di questa eccellenza per intraprendere un inedito corso di formazione all'autodifesa per agenti di Polizia e Militari dell'Esercito Polizia e Militari del 28esimo Regimento Pavia accresceranno le loro tecniche di autodifesa a lezione dal pesarese bicampione del mondo di kickboxing Jordan Valdinoci e questo è il progetto che indirettamente aumenta la sicurezza percepita di tutto un territorio grazie alla sinergia stretta fra il sindacato di Polizia Sjulp, ideatore del progetto la palestra Fight House di Via Toscana e l'Esercito con la caserma pesarese che oggi ha ospitato la presentazione di un programma che prenderà corpo a partire dal primo marzo nel solco della tradizione del Sjulp di Pesolo che da dieci anni comunque cercherà di essere vicino ai cittadini vicino alla società civile continuiamo a cercare di creare dei progetti proprio per tranquillizzare i cittadini per trasmettere comunque quei valori di sicurezza e legalità che stanno alla base di tutte le nostre azioni abbiamo visto che per esempio gli ultimi dati del 2022 attestano che quasi 2700 operatori delle forze di polizia sono stati feriti nel corso di collaudazioni durante operazioni condotte sul territorio escludendo poi tutti coloro che sono rimasti feriti durante i servizi di ordine pubblico abbiamo deciso, è molto importante secondo noi riuscire a creare una sinergia, un gruppo di lavoro in modo da formare i nostri operatori delle forze di polizia adesso partiamo con la polizia di Stato ma chiaramente il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutte le forze di polizia quindi arma di carabinieri, esercito, polizia locale, polizia penitenziaria quindi far lavorare insieme tutte queste forze di polizia noi vogliamo essere in grado di dargli quelle tecniche, quelle capacità operative di difesa personale in modo che sia l'operatore sia in grado di mobilizzare la persona senza fare del male o comunque limitando al massimo i rischi dell'incolumità personale della persona che deve fermare e anche per tutelare al massimo i rischi per la propria incolumità personale è nato perché noi sul nostro territorio abbiamo la fortuna di avere una stupenda palestra abbiamo un campione del mondo, Jordan Valdinoci di Kickboxing che ha un gruppo di professionisti, di collaboratori che con lui insegnano in questa palestra che sono proprio specializzati nel formare personale, nel fare questi corsi di lotte di difesa personale quindi mi hanno detto ma perché non sfruttiamo questa risorsa che credo poche province d'Italia abbiano proprio per cercare di far partire un progetto pilota che possa coinvolgere tutte le forze di polizia anche al fine, ripeto, come ho detto prima, di rassicurare la cittadinanza non sarò solo ma con tutta la squadra di allenatori che fanno parte dell'associazione Fight House quindi sì ci occuperemo diciamo della parte pratica c'è uno studio dietro, c'è una preparazione dietro abbiamo già preparato tutto il programma che appunto servirà come abbiamo detto per fornire una maggiore sicurezza e consapevolezza in primis agli agenti di polizia durante la fase operativa durante la fase per offrire questo servizio di sicurezza indirettamente ai cittadini Quale migliore occasione di presentare una sinergia così bella avendo la fortuna di avere un campione del mondo di kickboxing quindi un'occasione mondiale perché ce l'abbiamo solo nel campione del mondo al servizio dei miei uomini e donne del 21S di Centro Pavia e degli operatori di polizia sottolineo una cosa importante, l'ho detto anche nel mio discorso introduttivo i miei militari aderiranno su base individuale e volontaria sacrificando il proprio tempo libero per aumentare sì la propria capacità individuale ma anche metterla al servizio della collettività Il corso inizierà a marzo, ovvero subito dopo la chiamata a difesa del titolo mondiale da parte dello stesso Baldinocci A Parigi, il 16 febbraio, difesa del titolo mondiale ISCA uno dei due titoli mondiali professionistici di kickboxing che detengo e quindi sarà una sfida tosta uno perché sarà fuori casa quindi sappiamo che la giuria quando andiamo fuori è più impegnativa e soprattutto perché è stata una chiamata che è venuta in una maniera un po' inusuale con solo sei settimane di preavviso mentre ero all'estero a tenere dei seminari e quindi è stata una preparazione affrontata un po' in fretta e furia preparazione e dieta però arriviamo comunque pronti diciamo la nostra e sicuramente ce la metteremo tutta per mantenere il titolo in Italia e a Pesaro Ed ora ci spostiamo a Montelabate per parlare di una eccellenza imprenditoriale del nostro territorio nel settore dell'arredamento per ufficio questa mattina infatti le nostre telecamere si sono accese all'azienda Della Rovere Office & Contract per un momento particolare che ci viene illustrato dal suo direttore commerciale la Della Rovere è da sempre leader di mercato nell'arredamento ufficio di design e noi facciamo tutto quello che completa l'arredamento dalle scrivenie direzionali alle pareti attrezzate a sedia da ufficio, meeting e reception vendiamo il 50% del nostro prodotto in Italia paese in cui crediamo fermamente essendo italiani inoltre il 50% dell'altro prodotto in 50 paesi diversi nel mondo oggi siamo qua riuniti con tutta la forza vendita d'Italia proprio per presentare a tutti quanti il progetto Spazio della Rovere che cos'è lo Spazio della Rovere? è un progetto che vuole includere i rivenditori del territorio italiano a diventare dealer autorizzati dell'azienda stessa quindi chiediamo dello spazio espositivo nel quale metteremo le nostre collezioni e ovviamente logheremo sia all'esterno che all'interno di questi negozi in modo da poter essere sempre più presenti e forti nel mercato italiano è bene ricordare che l'azienda della Rovere produce a Pesaro è tutto in Italia e quindi tutto ciò che abbiamo di nostra produzione è del distretto italiano pesarese ed essendo anche capitale della cultura italiana quest'anno ci sentiamo fortemente legati al territorio e a tutte le aziende che collaborano con noi come finale un pochino eccentrico, un pochino speciale della riunione agenti abbiamo parlato ovviamente del budget che ogni agente deve raggiungere e ho lasciato un iconico sigaro io che non fumo e che non amo il fumo perché chi raggiunge il budget quest'anno aprirà questo sigaro esattamente questo qua questo sigaro e pubblicherà la sua foto con il sigaro in mano l'ultimo giorno dell'anno 2024 per dimostrare che è riuscito a raggiungere gli obiettivi che l'azienda gli ha dato si avvicina una domenica 11 febbraio all'insegna del carnevale che ha veramente l'imbarazzo della scelta a Pesaro infatti in programma la 67esima edizione del carnevale dei ragazzi con nove parrocchie partecipanti per una sfilata in maschera che partirà alle 15 da Piazzale Carducci e che quest'anno si concluderà in Piazza del Popolo nel Maxi Palco allestito per Pesaro 2024 le nostre telecamere saranno presenti nel centro di Pesaro così come a Vallefoglia per il Carnevale di Montecchio una festa in maschera che si svilupperà in Piazza della Repubblica dalle 14.30 grande attesa naturalmente anche al Carnevale di Fano per la terza domenica di sfilate Carnevale fanese che ieri ha clamorosamente visto il sindaco Seri consegnare la fascia di sindaco a Rabachen maschera di Pesaro che governerà simbolicamente la città di Fano fino a martedì 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale un omaggio di Fano al disturbo tema del Carnevale di quest'anno nonché a Pesaro, capitale della cultura e proprio parlando di capitale della cultura dopo Vallefoglia e Petriano il progetto 50x50 capitali al quadrato si sposta ai piedi del Monte Nerone sarà infatti a Pecchio il terzo comune della provincia capitale culturale per una settimana dopo Vallefoglia e Petriano dal 12 al 18 febbraio sarà il turno di Apecchio che vivrà una settimana da capitale della cultura grazie al progetto 50x50 capitali al quadrato tante le iniziative proposte dal comune con un evento diverso per ogni giorno e adatti a tutte le età è un programma ricco perché è improntato un po' alla espressività corale al fatto di poter coinvolgere un po' tutti quelli che sono stati i temi di questi anni le collaborazioni le varie iniziative che sono state messe in campo negli ultimi tempi che tra l'altro hanno visto anche consolidarsi nel tempo la collaborazione con il comune di Pesaro attraverso le mostre culturali attraverso le relazioni le precedenti celebrazioni rossiniane e quindi tra l'altro rinnovo ovviamente il ringraziamento verso il comune di Pesaro non solo per questa ottima intuizione di coinvolgere tutti i comuni ma anche perché da sempre c'è stata questa ricerca della complementarità nel nostro piccolo anche noi abbiamo potuto offrire le nostre risorse le nostre bellezze le nostre particolarità le nostre eccellenze e la soddisfazione è duplice perché questo appuntamento cade immediatamente a ridosso con il riconoscimento che abbiamo appena ricevuto dal Touring Club italiano con l'assegnazione della bandera arancione diciamo che quindi questo programma ripropone riflette, potenzia, rilancia i temi che sono stati anche alla base dell'ottenimento di questo titolo che riteniamo essere anche meritato per la particolarità e per l'eccezionalità sotto certi aspetti del nostro territorio tantissimi eventi che ci vedono protagonisti dal 12 al 18 febbraio la rassegna culturale prende il nome di AMA con la doppia iniziale per richiamare gli asili degli appennini di cui come comune della strategia nazionale delle rinterne facciamo parte e si parte il lunedì con la presentazione di una raccolta poetica con l'annunciazione della bandiera arancione un inedito di una poesia di volponi dedicata al nostro comune a pecchio per poi passare alla presentazione di un romanzo, a laboratori teatrali a uno spettacolo teatrale musicale il venerdì tutto al femminile con due musiciste e una voce narrante un po' di divertimento per i giovani il venerdì sera e il sabato con la nostra tradizione del carnevale che è il carnevale morto che è organizzato da giovani del nostro territorio quindi la parte giovanile non manca per poi passare invece alla storia agli amici della storia con due appuntamenti uno il sabato e uno la domenica due mostre a Palazzo Baldini e poi ovviamente la natura che fa parte del nostro territorio con un trekking la domenica mattina e una visita guidata al centro storico la domenica pomeriggio per concludere sempre con gli amici della storia queste settimane del 50 per 50 sta diventando non solo un valore aggiunto ma una vera e propria parte integrante è un grande rafforzativo di quello che è lo spirito di Pesaro capitale italiana della cultura dopo Vallefoglia e dopo Petriano ora a Pecchio che è uno dei comuni con cui abbiamo da sempre stretto rapporti di collaborazione di programmazione reciproca condivisa sul turismo, sulla cultura, sull'edogastronomia presenta ora una settimana davvero ricca da lunedì a domenica quindi sette giorni pieni in cui tanti degli elementi che ci hanno collegato in questi anni li ritroviamo nel migliore di modi Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo venerdì 9 febbraio che alle 21.20 prevede l'ultima puntata del nostro format affrontare le minacce della rete capire, prevenire, proteggere temi come cyberbullismo sono stati sviluppati in queste cinque puntate questa sera la conclusione a partire dalle 21.20 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale anche il sabato mattina con la rassegna stampa Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu in diretta a partire dalle 7.20 altra diretta del sabato sarà quella delle 10.30 quando dal Salone Metaorense della Prefettura vi trasmetteremo sia sul canale 80 che in diretta sulla nostra pagina Facebook le celebrazioni del giorno del ricordo 10 febbraio infatti la data che commemora l'esodo Giuliano Dalmata la tragedia delle foibe una pagina di storia troppo spesso dimenticata che viene enfatizzata in questo giorno del ricordo che appunto avverrà in Prefettura ma anche in diretta su Rossini TV a partire dalle 10.30 Ed è davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend con i nostri programmi Grazie a tutti